Esattamente come se devi cucinare con il poco che hai e rendere nutriente lo stesso questo olio. Buongiorno, buongiorno Daddy Lish. Allora, come vedete qui ci dice porta aperte, porte chiuse, ok? Poi geniamo ancora il pulsante qua, abbiamo mantenuto anche i pulsanti al volante, abbiamo recuperato anche la retrocamera, ok? Questa era la sua originale, questa è una Porsche Macan 2014, invece abbiamo messo il 12.3 con le sue cornici apposite per installare il 12.3. Penso che sia una cosa meravigliosa, no? Qui ci sono tutte le applicazioni, ok? GPS Test, che ci dice che ne ha? Pregati, oh! Aigo Navi, Google Offline, Google Maps, Play Store, la radio, YouTube, video e anche il lab del cartello, ok? Adesso consegniamo la macchina, siamo a domicilio perché ha voluto che non sia domicilio, a Monza, oltre Monza, verso Como. Ho fatto un bel upgrade, direi. Lei di lese è tutto, vi aspetto numerosi.